Buonasera, bentrovati. Allora, tra poco il telegiornale si apre inevitabilmente con i risultati delle elezioni parlamentari tedesche che segnano la fine dell'era Merkel e che soprattutto hanno creato e stanno creando un clima di totale incertezza. Perché secondo le ultime proiezioni, le leggo insieme a voi, delle 19.14, i due avversari, cioè i cristiano-democratici, la CDU, CSU e i social-democratici, la SPD, sono praticamente appaiati, Kopf am Kopf, come si dice in Germania, testa a testa, intorno al 25%. L'ESPD al 24,9% e la CDU al 24,7%. Seguono i liberali intorno al 14%, poi i liberali all'11% e poi l'estrema destra intorno al 10% e l'estrema sinistra al 5% che rischia addirittura l'Inc, il partito della Linke, che rischia addirittura di non entrare nel Bundestag. Capite che in questa situazione tutto è possibile, tutte le coalizioni sono possibili, quindi ci vorrà molto tempo e una abile attività diplomatica nelle prossime settimane, nonché un conteggio davvero all'ultimo voto. Nonostante questo c'è un dato politico incontrovertibile, ovvero che i cristiano-democratici sono letteralmente crollati. Pensate che la primavera scorsa erano intorno al 40% e ora appunto sono scesi al 25%. Se fossero confermati questi dati si tratterebbe del peggior risultato della storia per la CDU. Addirittura in Baviera la zona, il lander della CSU, alleato della CDU, ha perso il partito. Nonostante questo però entrambi i cancellieri designati, Laschet per la CDU e Olaf Scholz per la SPD, rivendicano la vittoria. Ma come si dice negli Stati Uniti, sono too close to call, c'è ancora troppo presto, sono troppo vicini per decretare un vincitore. Ma insomma un dato di fatto è che l'SPD è riuscito a risalire mese dopo mese e a raggiungere questo risultato che è davvero storico. Dunque vedremo tutto questo nel telegiornale e vedremo come queste elezioni sono seguite non soltanto dai tedeschi, ma da tutti i governi europei perché finisce oggi l'era Merkel e l'Europa perde una leader che ha guidato la politica non soltanto del suo paese ma dell'intera Unione. Bisognerà capire se il prossimo cancelliere per esempio avrà la stessa posizione in merito a quello che è l'argomento di maggiore discussione delle due anime europee, cioè il patto di stabilità. Anche la politica italiana naturalmente non si esime dal seguire le elezioni tedesche anche perché in Italia saremo protagonisti noi tra pochissimo di nuove elezioni non parlamentari ma amministrative il prossimo weekend e naturalmente questa sarà una sfida molto importante per i partiti di maggioranza che sostengono il governo ma anche per l'opposizione. E c'è una sorta di sfida carsica indiretta tra in particolare all'interno del centrodestra, tra fratelli d'Italia e la Lega. Oggi lo sentirete, la Meloni ha ribadito che non è in ballo nessuna leadership del centrodestra ma è del tutto evidente che in particolare il test amministrativo di Milano avrà un peso molto importante all'interno degli equilibri della coalizione del centrodestra. Poi naturalmente parleremo anche delle cose più pratiche, cioè dei temi più caldi e ancora il tema più caldo della politica è il tema del lavoro. Oggi c'è stato una sorta di confronto a distanza tra Landini e Bonomi, ovvero tra sindacati e Confindustria su questo tema, la vigilia dell'incontro importante che ci sarà domani a Palazzo Chigi con il Presidente del Consiglio Draghi e i tre principali sindacati. Sentirete che ci sono delle aperture sul salario minimo da parte del numero uno di Confindustria e sentirete anche la posizione di Landini che ha fissato dei paletti. Di fatto ha sostenuto che il sindacato deve avere un ruolo proattivo nel confronto con il Presidente del Consiglio e non di semplice auditore. Poi torneremo naturalmente anche sul Covid. Ci sono novità per la lotta alla pandemia, in particolare per quel che riguarda la terza dose dei vaccini. Poi molte altre notizie, fra tutte queste una curiosità nel giorno in cui esce di scena forse la donna più potente dell'Europa, Angela Merkel, si torna a parlare di donne perché c'è uno Stato, un Paese dell'Unione in cui il Parlamento è a maggioranza femminile. La prima volta che succede in Europa. Per questo ed altro vi aspetto per i titoli e per il Tre Giornale tra 30 secondi. La Germania ha il voto per il dopo Merkel. Le proiezioni disegnano un testa a testa tra il socialdemocratico Scholz e il cristiano democratico Laschet. Entrambi i partiti rivendicano la vittoria. La CDU registra però un calo del 9% dal 2017. Annuncia un possibile accordo con i Verdi. L'Espede invece rivendica di aver conquistato di fatto il mandato per governare. Insomma dopo 16 anni la Germania si appressa a voltare pagina con un voto che potrebbe cambiare non solo la sua politica interna ma anche la sua proiezione in Europa. Chiunque sarà il nuovo leader da domani dovrà cercare una coalizione con cui poi gestire la difficile eredità della Merkel dalla svolta verde all'enorme debito accumulato con la crisi del Covid. C'è attesa per l'incontro di domani a Palazzo Chigi tra Draghi e sindacati dopo il sì dell'industriale all'ipotesi di un patto per la ripresa il Presidente del Consiglio si appresta a verificare la disponibilità di CGL Cislewil. Il segretario Londini però avverte vengo per discutere non solo per ascoltare. Il segretario Dem Letta ribadisce intanto la richiesta di un patto sul lavoro che dia soprattutto priorità ai giovani. Tutti gli operatori sanitari dovranno fare la terza vaccinazione anti-Covid non ci sarà alcun rinvio. È la precisazione che è stata fatta dal Comitato Tecnico Scientifico. La richiesta dell'obbligo per tutti i sanitari, non solo i più esposti al contagio arriva anche dall'ordine dei medici. In base alla curva dei contagi, oggi ancora in discesa, si deciderà poi l'eventuale allargamento del terzo richiamo a tutta la popolazione. Spettacolare! Gran premio di Formula 1 in Russia con duelli. Si rimonte un finale con pioggia che in sole cinque giri sconvolge la classifica. Lewis Hamilton scrive ancora la storia perché conquista il suo centesimo successo in carriera. Alle sue spalle c'è il rivale per il titolo Verstappen partito dall'ultimo posto. Sul podio sale anche il ferrarista, Carlos Sainz. Buonasera, ben trovati. Allora il voto in Germania apre tutti gli scenari possibili. Si era detto nei giorni precedenti al voto che l'era Merkel finisce oggi ufficialmente ma non si sa che era comincerà perché i due partiti avversari, la coalizione dei cristiano-democratici, CDU, CSU e i social-democratici, l'ESPD, sono praticamente appaiati. E lo sono ancora in questo momento dopo le proiezioni della sera. Calcolate che il voto si è chiuso intorno alle 18.00 e l'ultima proiezione delle 19.20 ancora dava le due coalizioni praticamente alla pari con uno scarto tale per cui non si può decretare e definire nessun vincitore. A questo punto tutte le ipotesi sono aperte. Non è esclusa nemmeno la cosiddetta grosse coalizione, quella che ha governato la Germania negli ultimi anni. anche se entrambi i cancellieri designati, sapete che in Germania si votano i partiti e non direttamente il cancelliere, dicevo i cancellieri designati, cioè Laschet e Scholz, entrambi hanno rivendicato la vittoria. Ma vediamo i maggiori dettagli nel servizio. Ad urne appena chiuse alle 6 di questo pomeriggio sul maxischermo della SPD arrivano i primi exit poll. È testa a testa, come confermano anche le ultime proiezioni di questa sera, tra i due maggiori partiti, ZDU e SPD. Ma i socialdemocratici hanno di che festeggiare, seppure di poco sono infatti in testa nel voto per il rinnovo del Bundestag. Elezioni storiche perché chiudono l'era Merkel, il cui successore dovrà ricevere il sigillo del nuovo Parlamento federale tedesco. Un risultato fino a pochi mesi fa impensabile, con i cristiano-democratici sempre avanti nei sondaggi, una montagna impossibile da scalare. Un vantaggio che il candidato del partito della Merkel, Armid Laschet, il vero sconfitto di oggi, si è lasciato però erodere lentamente con la gaff della risata nella renania devastata dalle alluvioni che, secondo alcuni analisti, avrebbe segnato per lui un punto di non ritorno fino all'ultima di oggi con la scheda mostrata agli elettori. Il partito conservatore crolla dal 40 al 24% in pochi mesi. I socialdemocratici sono sicuri di avere vinto. Abbiamo un chiaro mandato per governare, dichiara la segreteria del partito mezz'ora dopo la chiusura delle urne. Scholz parla poco dopo. I cittadini vogliono il cambiamento e Meccancelliere scandisce in un intervento secco di pochi minuti davanti ai suoi sostenitori. Mentre nella sede della CDU, Angela Merkel decide di non sottrarsi al mea culpa di Laschet e appare, tesa, accanto a lui, che dice non siamo soddisfatti di un risultato che però non è ancora chiaro. Un test a testa del resto ampiamente anticipato dai sondaggi, ma ora si aprono i veri giochi perché né la CDU né l'SPD hanno i numeri per governare da soli e devono obbligatoriamente sondare gli altri partiti. Per i socialdemocratici di Scholz, che ha dimostrato di sapersi muovere molto bene nel solco della Merkel, lui che è vice cancelliere e nonché ministro delle finanze nella grossa coalizione che governa Berlino da 16 anni, quella con i verdi di Anna-Lena Baerbock al 14,7%, sarebbe l'alleanza ideale. Ma il problema potrebbe essere di doversi sedere anche con i rigoristi liberali all'11,8% nelle proiezioni che hanno fatto sapere di preferire un'alleanza con la CDU ma di essere pronti a partecipare anche ad un altro governo. Resterebbero così fuori gioco sia la sinistra di Linke al 5%, sia l'estrema destra di AfD in calo al 10,1%. Tra l'altro la Linke rischia di restare fuori anche dal Parlamento o dal Bundestag se dovessero essere confermati questi dati. C'è una ancora precisazione in più che va data e che potrebbe essere di rimente per la gestione dell'analisi di questo voto ed è il voto postale perché mai come quest'anno si è fatto uso in Germania del voto postale intorno al 40% e questo potrebbe fare la differenza secondo gli analisti. È evidente che queste elezioni segnano un punto di svolta non soltanto per la Germania ma per tutta l'Europa anche perché la prossima primavera ci saranno altre importanti elezioni quelle presidenziali francesi. Ma una cosa è sicura, finisce con oggi un'epoca, un'era, l'era Merkel che ha segnato profondamente il paese e ha segnato anche la politica europea. Di fatto quando è arrivata la Germania era quasi il malato d'Europa e lascia invece un paese estremamente ricco attraverso politiche economiche sue ma anche del suo predecessore Schroeder. Tutte le leggi sul lavoro sono state sue. Quel che è certo appunto è che ha segnato e continuerà probabilmente a segnare anche la politica futura del paese. 16 anni con Angela Merkel da quel 2005 per quella che è stata non solo la cancelliera tedesca ma in qualche modo dell'intera Europa. Nel 2005 è redita una Germania in crisi con un deficit record e la lascia ricca. Tuttavia non sono le sue grandi riforme che rilanciano l'economia tedesca su tutte e quella del lavoro del suo predecessore Schroeder. La Merkel, come dice le stesse, è una leader che si muove per millimetri, che smonta e rimonta la realtà. Da fisica qual è per trovare la soluzione a problemi immediati, se serve anche cambiando opinione e politica. Diversi gli esempi dal nucleare eletta difendendo le centrali atomiche dopo Fukushima ha spinto la Germania a smobilitarle ma senza dare il via alla svolta verde che ha abbracciato solo molto dopo quando si è presentato il problema numero due. Berlino era diventata uno dei paesi con maggiori emissioni di CO2 al mondo. Simile alla parabola economica viene eletta come raggina dell'austerity, liberista convinta, la promotrice dello spread del patto di stabilità perché la storia tedesca dei suoi elettori glielo chiedevano a gran voce. Ha faticato a staccarsi da quei principi persino nella crisi del subprime che hanno messo in pericolo la stessa vita dell'euro imponendo condizioni di rientro dal debito draconiana alla Grecia ma allo stesso tempo capendo che se la Germania non avesse sostenuto la politica di acquisti della BCE ed il famoso whatever it takes di Draghi l'Europa rischiava di perdere la propria moneta con conseguenze devastanti. Solo il Covid l'ha imposto la sospensione del patto di stabilità ma la cancelliera ha saputo far digerire ai tedeschi il tabù della mutualizzazione del debito. Lascia così un'Europa la quale ha fatto superare crisi mortali ma senza soluzioni di lunga durata. L'austerity ha dato forza al populismo e al nazionalismo così come l'accoglienza coraggiosa dei siriani senza un'adeguata preparazione senza un vero piano europeo. Tutti i problemi che ricadranno sulle spalle del suo successore come la gestione della svolta verde c'è da scommetterci una volta finita la crisi e il dibattito tra le due anime dell'Europa su come rientrare dal mustoso debito accumulato col Covid. Proprio per quello che si diceva nel servizio molto probabilmente quali che siano i partiti che formeranno la coalizione di governo in Germania si manterrà la linea Merkel della prudenza fiscale. Anche per questo c'è stata grande attenzione da parte di tutti e c'è ancora da parte di tutti i governi europei rispetto a queste elezioni compreso il governo italiano. In Italia saremo impegnati noi tra poco tra l'altro a breve tra una settimana in nuove elezioni non parlamentari ma amministrative amministrative che però peseranno in maniera sensibile anche sugli equilibri delle varie coalizioni centrodestra e centrosinistra. Il conto alla rovescia segna meno sette il voto amministrativo di domenica e lunedì prossimo primo test elettorale dell'era Draghi è un passaggio decisivo sia per le forze dell'ampia maggioranza di governo che per il principale partito di opposizione nel quadro di una sfida tutta interna al centrodestra. Perché in ballo oltre ai sindaci di città come Roma Milano Torino Napoli e Bologna ci sono i voti di lista gli ultimi giorni di campagna elettorale vedono soprattutto i leader di Lega e fratelli d'Italia confrontarsi a distanza a volte come ieri a ruoli invertiti la Meloni in piazza Duomo a Milano con Luca Bernardo il candidato scelto dalla Lega e Salvini a Roma con Michetti il civico indicato da fratelli d'Italia non è in ballo la leadership del centrodestra assicura Giorgia Meloni che punta però a insidiare il primato del carroccio proprio a Milano e a Milano un tempo roccaforte berlusconiana torna a farsi sentire l'ex premier Forza Italia è essenziale per un centrodestra capace di vincere e governare ha detto intervenendo telefonicamente all'evento Forza Milano da parte sua Salvini vuole capire quanto costi in termini di consensi il sostegno al governo la sua campagna elettorale a ritmi serratissimi oggi tappa al mercato di Porta Portese a Roma dove si è imbattuto in Carlo Calenda leader di azione quarto incomodo nella corsa tra Michetti centrodestra Gualtieri PD e la sindaca uscente Raggi 5 stelle un incontro non proprio cordiale Calenda un ricco e viziato signore che oggi al mercato non si filava nessuno le parole di Salvini bollato da Calenda come bullo di carta pesta la sfida di Roma parte come la più incerta con il PD che punta a superare lo scoglio del primo turno e 5 stelle che sperano di arrivare al ballottaggio su un eventuale sostegno del movimento al candidato Demma al secondo turno Giuseppe Conte è stato molto prudente l'alleanza 5 stelle PD è ancora tutta da costruire ma il segretario PD Enrico Letta candidato alle suppletive per la Camera nel collegio di Siena sostenuto anche dal movimento è convinto che il nuovo bipolarismo passi proprio dal voto di Siena parallelamente ai movimenti dei vari partiti c'è poi l'attività del governo che in questi ultimi giorni è concentrato principalmente sul tema forse più importante di questi mesi il tema del lavoro oggi soprattutto dopo il lancio del cosiddetto patto sociale fatto dal presidente Consiglio Draghi all'Assemblea di Confindustria venerdì scorso oggi c'è stato una sorta di confronto a distanza tra Landini e Bonomi ovvero tra sindacati e Confindustria proprio su questo tema e alla vigilia dell'incontro che si darà domani a Palazzo Chigi con i sindacati ci sono aperture e precisazioni da entrambe le parti mi aspetto il meglio possibile che può uscire dall'incontro del presidente Draghi con i sindacati quindi la rinnovata volontà di tutti a lavorare nell'interesse del paese dice così il presidente di Confindustria Bonomi alla vigilia dell'incontro di domani con Draghi e i sindacati dopo aver alzato i toni politici definendo necessario il presidente del consiglio Confindustria preferisce dunque tenersi sulle generali in vista di un autunno che sotto l'aspetto del lavoro si è già presentato per il governo come l'emergenza numero uno anche perché da quell'altra parte a Palazzo Chigi si siederà un segretario della CGL come Landini che a differenza di Bonomi dopo aver già ventilato la possibilità di uno sciopero mette ancora le mani avanti vado da Draghi per discutere non per essere informato il patto di cui tanti oggi parlano non può essere solamente semplicemente una cornice dice si deve chiarire qual è il quadro quali sono i colori che vogliamo usare è importante discutere dei contenuti e delle cose che concretamente facciamo un quadro quello boccato da Landini comprensivo naturalmente di tutte le varie e pesanti questioni aperte a cominciare da quelle portate alla ribalta dalle ultime cronache GKN all'Italia quest'ultima se non altro per i numeri la più ingombrante oltre che la più urgente e se il ministro dello sviluppo economico Giovannini mette fretta se non parte i problemi si moltiplicano ulteriormente avverte il segretario della CGL insiste nel lamentare la cancellazione del contratto nazionale di lavoro e regole imposte unilateralmente tutto dentro il famoso e anche fumoso almeno per il momento patto sociale annunciato da Draghi un patto che tra delocalizzazioni salute e sicurezza da emergenza covid pressione di Bruxelles blocco dei licenziamenti in scadenza ottobre salario minimo ha già fatto assumere alla questione lavoro l'aspetto di una matassa assai difficile da dipanare sulla quale si concentra però l'ottimismo di 5 stelle PD un ottimo segnale lo definisce il ministro degli esseri Di Maio che si augura sia più inclusivo possibile il segretario PD Letta dice che la proposta del premier Draghi di coinvolgere sindacati e imprese è quella giusta sottolineando il tema dell'occupazione giovanile ma dal PD arriva anche una voce più preoccupata è quella dell'ex ministro Boccia che quasi avverte il governo ha il nostro massimo sostegno ma nessuno del nostro paese ha avuto in passato e non l'avrà in futuro una delega in bianco e credo che non la vorrebbe neanche il presidente Draghi che è molto rispettoso del Parlamento poi ci sono i dati relativi alla pandemia dal virus SARS-CoV-2 oggi lo sentirete tra poco i dati sono positivi più o meno stabili rispetto a ieri c'è un numero però che impressiona molto e che ribadisce ancora una volta l'importanza della campagna vaccinale nel 2020 a causa della eccessiva presenza di pazienti all'interno degli ospedali delle sale di terapia intensiva sono saltati letteralmente oltre 400 mila interventi una cifra davvero impressionante una campagna vaccinale che si sta arricchendo anche di una terza dose di un richiamo del vaccino che probabilmente riguarderà a seconda della curva anche tutti i cittadini ma che i medici chiedono che sia fatta subito per tutti i sanitari nessun rinvio per gli operatori sanitari medici infermieri e quanti lavorano a contatto con i pazienti dovranno fare la terza dose di vaccino la precisazione arriva con una nota di Silvio Brusaferro presidente dell'istituto superiore di sanità e portavoce del comitato tecnico scientifico dopo che ieri lo stesso CTS aveva dato il via la terza somministrazione per gli over 80 per gli ospiti dell'RSA e per i sanitari più vulnerabili e maggiormente esposti al contagio l'allargamento al resto del personale sembrava fosse rinviato invece no la richiesta dell'obbligo del richiamo aggiuntivo del vaccino per la categoria viene dalla stessa federazione dell'ordine dei medici i sanitari a rischio per noi sono tutti dice il presidente Filippo Anelli tutti devono fare la terza dose anche se precisa ha senso partire da quelli più esposti come chi lavora nei reparti covid bisogna essere severi non può non essere vaccinato chi è in contatto con gli altri ribadisce dal canto suo Francesco Vaia direttore sanitario dello Spallanzani di Roma si parla della terza dose anche per tutta la popolazione si deciderà in base alla curva del contagio afferma Giorgio Pallù presidente dell'agenzia italiana del farmaco ci vorrà almeno una settimana per valutare l'effetto contagi dovuto alla riapertura delle scuole dice ma valuta positivamente il segnale di decremento che si registra da giorni dai dati di oggi 3099 nuovi casi in calo rispetto a ieri quando erano più di 3500 giù anche il numero dei morti 44 rispetto ai 50 del giorno prima il tasso di positività resta stabile all'1,1% due ricoveri in più nelle terapie intensive 66 meno nei reparti ordinari ora si aspettano le prossime mosse del comitato tecnico scientifico in agenda per domani le decisioni sulla possibile riduzione della durata della quarantena a 5 giorni da applicare tra gli studenti solo al compagno di banco in caso di positività e sull'aumento della capienza per eventi e spettacoli stadi concerti cinema e teatri ai quali naturalmente si può accedere soltanto attraverso il possesso del green pass a proposito di questo è stato avviato un procedimento disciplinare nei confronti della vicequestore Nunzia Schiliro che ieri ha partecipato avrete letto sicuramente a Roma una manifestazione appunto contro il green pass è salita sul palco e ha definito questo provvedimento cioè il lascia passare sanitario incompatibile con la costituzione a giudicare sul suo operato sarà il consiglio di disciplina nella polizia di stato dichiarazioni gravissime sono state definite dal ministro dell'interno la morgese che auspica un rapido accertamento sotto ogni profilo giuridicamente rilevante la Schirillot prosegue nelle sue dichiarazioni perché ha detto che eserciterà i suoi diritti ha esercitato i diritti di libera cittadina e andrà avanti con o senza divisa per amore del mio paese così ha dichiarato una volta saputo del provvedimento disciplinare nei suoi confronti vediamo notizie dall'estero due essenzialmente oggi è la giornata lo dicevamo in cui esce di scena con risultati pessimi per il suo partito la coalizione Angela Merkel forse la donna più potente dell'Unione Europea degli ultimi 16 anni e nelle stesse ore per una bizzarra sincronia si parla ancora di donne perché per la prima volta in Europa c'è il Parlamento di uno Stato dell'Unione che è a maggioranza femminile era già accaduto in Ruanda Cuba Nicaragua Emirati Arabi e Messico mai in Europa a conquistare il primato è stata l'Islanda il risponso delle urne ha assegnato più della metà dei seggi del Parlamento unicamerale alle donne 33 su 63 finora nel vecchio continente solo la Svezia aveva raggiunto un'alta percentuale femminile ma si era fermata al 47% l'Islanda si conferma ancora una volta all'avanguardia nell'uguaglianza di genere e nel ruolo delle donne in politica e nella vita pubblica con dati che vengono certificati anche dall'ONU da ben 12 anni inoltre dal 2018 la parità salariale è prevista per legge nelle aziende sopra i 25 dipendenti e i datori di lavoro inadempienti sono a rischio sanzioni l'Isola ha così segnato un altro primato nel 1980 ha avuto la prima presidente della Repubblica Donna al mondo nel 2009 la prima premier dichiaratamente lesbica Joanna Sigurdottir che ebbe il gravoso incarico di gestire il paese precipitato nella crisi finanziaria con il collasso del sistema bancario la nazionalizzazione delle banche i licenziamenti e avviò l'iter di adesione all'Unione Europea successivamente ritirato nel 2015 l'Isola strategica partner della Nato aderisce al mercato unico e al trattato di Schengen ma a crisi economica terminata ha preferito rimanere alle porte dell'Unione le elezioni di ieri hanno confermato la maggioranza di larghe intese che vede insieme al governo i verdi di sinistra della premere uscente Katrin Giacobbdottir e il suo viceno che ex primo ministro conservatore Benedictson cambiano però i numeri all'interno della coalizione i verdi perdono tre seggi mentre il partito del vicepremier sale a 16 diventando il primo è andata bene per la causa delle donne ha detto Giacobbdottir ma noi verdi di sinistra siamo andati male perdendo seggi elementi che mettono in dubbio il suo futuro alla guida del paese che lasciano nuovi spazi a coalizioni guidate da Benedictson proprio la questione ambientale appesato sulla permanenza al governo della premere uscente accusata di non aver fatto abbastanza per contrastare il cambiamento climatico e la crisi artica lo dico senza alcuna polemica l'Islanda non ha le quote per la rappresentanza femminile in Parlamento questo è bene saperlo e ricordarlo a memoria futura eppure ha avuto questi risultati sono i partiti che chiedono la rappresentanza femminile di mettere in lista le donne un'altra notizia che arriva dall'estero arriva dalla Svizzera che oggi da oggi consente il matrimonio alle coppie omosessuali è stato deciso attraverso un referendum sul diritto al matrimonio civile la modifica del codice è stata ratificata da una maggioranza con il 64,1% degli elettori elvetici con un'affluenza molto elevata il matrimonio sarà esteso anche agli stranieri non residenti e le coppie omosessuali potranno anche adottare figli ma adesso veniamo allo sport c'è un nuovo record tondo tondo 100 vittorie per Lewis Hamilton parliamo naturalmente della Formula 1 dalla roulette russa di Sochi è uscito il numero 44 di Lewis Hamilton 53 giri splendidi con dentro sorpassi i monte impensabili strategie sbagliate e giuste fino all'epilogo dell'ultimo colpo di scena determinato dell'arrivo della pioggia a 5 giri dalla fine la vittoria di Hamilton è stata molto più difficile di quello che si potesse pensare alla vigilia altro che rigore a porta vuota semmai vittoria sofferta in pieno recupero e per autogol ma forse questo rende ancora più bello il trionfo numero 100 che pensavo non arrivasse più ha confidato il pilota inglese a fine gara un'altra casella riempita di una carriera che sa di leggenda pensate ci sono la bellezza di 14 anni tra la prima vittoria in Canada nel 2007 e l'ultima oggi a Sochi non ci si dimentica di se stessi di quello che si è stato i campioni sono così si stremono a forza di inseguire se stessi la loro grandezza val di là dei numeri quella di Hamilton sta tutta in quella feroce determinazione in quella voglia smisurata in quel sentirsi mai appagati in quella freddezza che oggi nel momento decisivo a tre giri dalla fine quando era secondo dietro alla McLaren di Norris l'ha portato a scegliere la strategia vincente rientrare in box e cambiare le gomme quella freddezza che Norris non ha avuto nonostante l'ordine che arriva dal box ha deciso di continuare sbagliando e finendo addirittura settimo il secondo numero uscito dalla folle roulette di Sochi è il 33 di Max Verstappen che è partito ultimo scaraventato laggiù della scelta di utilizzare il quarto motore è finito secondo rimontando in perfetto equilibrio tra essuberanza e saggezza dimostrando di sapersi smarcare dalle trappole psicologiche del rivale nella baraonda finale finita invece come peggio non poteva un malinconico quindicesimo posto l'entusiasmante rimonta di Leclerc partito in ultima fila per aver optato anche lui per il quarto motore si è mosso bene sulla pista scivolosa l'altro ferrarista Carlos Sainz la sua costanza è stata premiata con un incoraggiante a Socia è andato in scena solo un altro capitolo di un mondiale appassionante ora Hamilton è tornato al comando Verstappen è dietro di due punti prossima puntata tra 15 giorni in Turchia invece appuntamento subito dopo di noi con in onda con Cittade Gregorio e David Parenzo che questa sera ospitano Alessandro Di Battista Emma Bonino Luciano Canfora e Tonia Mastrobuoni poi a seguire ci sarà Atlantide di Andrea Purgatori che si occupa del caso Epstein con testimonianze molto drammatiche delle ragazze che anche minorenni sono state abusate dal miliardario statunitense ci fermiamo qualche istante e poi torniamo per gli aggiornamenti Eccoci nuovo in diretta vi do soltanto l'ultima proiezione questa volta della ZDF delle elezioni in Germania con cui abbiamo aperto il giornale c'è un leggero vantaggio dell'SPD che ora è al 25,7 segue la ZDU ZSU a 24,6 era davvero l'ultimo aggiornamento passo la linea a concilia De Gregorio e a David Parenzo per in onda e poi a seguire Andrea Purgatori con il suo Atlantide grazie per l'attenzione e buona domenica grazie a tutti